Nella splendida cornice del circolo tennis Fossombrone è tutto pronto per l'evento tennistico più importante dell'anno, il torneo Open maschile e femminile Città di Fossombrone, in programma dal 9 al 24 giugno. L'evento di portata nazionale si configura come uno dei tornei più importanti del centro Italia della categoria Open, tra le novità di quest'anno il riallineamento del monte premi al periodo pre-covid, di cui una parte sarà erogato in voucher da un'agenzia viaggi main sponsor della manifestazione, previsti anche due trofei per i vincitori e paste e prodotti bio per i finalisti, coniugando sport e benessere. Esattamente, questa è la nostra aspettativa, quella di cercare di tornare ai numeri del 2019, dove avevamo fatto record iscritti e di monte premi. Il monte premi è stato riportato esattamente a quei livelli ed è stata anche confermata l'ospitalità a partire di tutti gli atleti che entrano negli ottavi di finale del tabellone finale. Come verrà strutturata questa settima edizione? La settima edizione verrà strutturata con due settimane di gara, di cui la prima dedicata alle qualificazioni e la seconda invece al tabellone finale dove entreranno e parteciperanno anche tutti i professionisti con anche classifiche internazionali. L'abbiamo visto anche in conferenza stampa, sono diverse le collaborazioni e le sponsorizzazioni? Sì, abbiamo ben 30 collaborazioni attive e devo dire che tutte queste bellissime collaborazioni ci hanno dato più che una mano, ma ci hanno concretamente supportato alla realizzazione di questo evento, ma anche e soprattutto all'abbellimento e a rendere ancora più confortevole questa struttura sportiva proprio per questo evento di punta nazionale. Un'edizione in cui i numeri sia in termini di atleti partecipanti che di interesse confermano come questa manifestazione sia un vero punto di riferimento per il circuito tennistico nazionale, il tutto immerso in una struttura sportiva sempre più all'avanguardia. Si prospettano quindi due settimane intense all'insegna del divertimento e dello sport e soprattutto di bel tennis in un contesto piacevole, riqualificato di recente. La struttura quest'anno è stata ampliata anche e soprattutto nella zona lounge a fianco al bar, comunque disponiamo sempre di un'area giochi per i bambini e quindi anche le famiglie trovano un ambiente accogliente per passare comunque qualche ora e ovviamente se poi ci sono appassionati di tennis si possono seguire le partite. Ricordo che le iscrizioni chiuderanno il 14 giugno per seconda categoria che è la fase finale del torneo e quindi ancora c'è tempo per iscriversi e inoltre ci saranno poi durante il torneo delle serate conviviali organizzate dai nostri sponsor dove sono aperte a tutti e quindi vi aspettiamo al Circo Tennis Fossombrone e buon torneo a tutti. A pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni si contano già più di 100 giocatrici e giocatori iscritti. L'evento è organizzato con il patrocinio del comune e continuando così il percorso di promozione dello sport e dell'immagine della città di Fossombrone iniziato con la tappa del Giro d'Italia dello scorso 13 maggio. Sindaco nel suo intervento ha sottolineato la qualità della manifestazione ma anche l'impegno della comunità. Sì esatto, diciamo che la qualità di una comunità dipende dalla qualità di qualsiasi intervento di ogni singolo cittadino, di ogni singola associazione sportiva. Più teniamo la nostra comunità meglio facciamo e ne guadagniamo tutti. Questo è un esempio di quello che sono riusciti a fare, di quello che stanno facendo con le proprie forze e quindi questo per me è un punto d'orgoglio e un punto di riferimento che dovrebbe essere un po' visto e consumato da tutti. E lo sport in generale in queste settimane è proprio al centro della città di Fossombrone? Beh, lo sport è una cosa importante, una cosa non soltanto per appassionati ma va visto anche come forma di socializzazione, una forma che in qualche maniera riforma un po' la tribù, riforma anche qui la comunità e quindi è una forma per stare insieme, un motivo per stare insieme, un motivo di sano, di vago e quindi benvenga. A proposito di sport e socialità, dal 19 giugno ripartiranno i corsi estivi di tennis seguiti dal maestro Massimiliano Pierucci. Intanto tutti gli eventi e le news sul torneo possono essere seguiti sui canali social del Circolo Tennis e sul nuovo sito internet aggiornato per l'occasione. Un evento dunque che porta il tennis della provincia agli apici della regione, come ha detto lei. Sì, sì, nel territorio voglio dire questo è un evento dei migliori, io non posso far altro che complimentarmi con tutta l'organizzazione e un forte in bocca al lupo.